Riprendiamo parlando, diciamo una volta per tutti perché poi ci concentreremo su requisiti di tipo funzionale, ma parliamo un pochino dei requisiti invece non funzionali, che sono quelli un pochino diversi, ma definiscono normalmente, dicevamo, delle proprietà del sistema che sono indipendenti dalla singola funzione che viene svolta dal sistema in quel momento e si applicano di solito al sistema nel suo complesso. Possono essere requisiti di prestazione, requisiti di qualità, requisiti di affidabilità, di tempo di risposta, ma possono essere anche requisiti sul processo di sviluppo da adottare, sull'usare quel tipo di repository per i codici, sull'usare quel tipo di librerie, quel tipo di linguaggio di programmazione, quindi possono essere anche dei vincoli sul processo di sviluppo stesso. E come anche ricordato qua sull'ultima frase, sono quelli più critici perché se uno di questi non è soddisfatto, il sistema magari è bellissimo, ma non è utilizzabile perché non rispetta quel tipo di requisito e quindi lo rende inutilizzabile in modo attraversale, mentre se manca un requisito funzionale è solo un pezzettino del sistema che non funziona, ma tutto il resto si può utilizzare. Da dove arrivano questi requisiti non funzionali? Beh, sono requisiti che arrivano dalla natura del prodotto, quindi quel prodotto specifico deve funzionare in quel modo, dalla natura dell'organizzazione, quindi in questa azienda le cose si fanno così e quindi il prodotto deve rispettare questi criteri, oppure requisiti di tipo esterno, facevamo accenno prima, requisiti di tipo normativo, legislativo, procedurale, cose di questo genere, che sono esterni all'azienda, ma che sono caratteristici comunque del tipo di dominio applicativo su cui il prodotto deve lavorare. Tutti questi livelli, il mondo del contesto esterno, l'organizzazione, il modello organizzativo in cui il sistema informativo dovrà calare, più la specificità del prodotto, fanno nascere una serie di vincoli, che noi cerchiamo di raccogliere a livello di requisiti non funzionali. Questa è una piccola tassonomia che esemplifica, però ad esemplificare un po' quelli che sono i tipi di requisiti non funzionali. Ad esempio i requisiti di prodotto possono essere l'usabilità, la facilità d'uso, la facilità di apprendere l'uso di un sistema. C'è un sistema che al primo colpo lo sai usare bene, è un sistema molto usabile. Un sistema che richiede dei corsi e poi ogni volta che lo usi non sai mai dove trovare le cose, mi viene in mente il portale della didattica, è un sistema che non è molto usabile. C'è tutto dal punto di vista funzionale a completo, ma dal punto di vista di responsabilità a pena. Quindi questo è un requisito non funzionale che lì non è stato applicato. L'efficienza tendenzialmente ha a che fare col tempo, cioè il tempo di risposta, la velocità di risposta, a volte anche lo spazio di memoria, lo spazio di memorizzazione dei dati e cose di questo genere che il sistema impiega. Quindi quante risorse il sistema usa per svolgere le altre funzionalità. Io ho bisogno, pensiamo, lato server non è tanto un problema, ma pensiamo di fare un'applicazione che deve girare sui dispositivi mobili e non deve occupare più di tot megabyte perché poi magari sui dispositivi di più basso profilo non è eseguibile oppure sarebbe troppo lento. Affidabilità è la proprietà di un sistema di continuare a funzionare anche in presenza di errori o più facilmente di guasti di tipo hardware. Manca la rete, manca un pezzo, si rompe quello, il sistema continua a funzionare o perlomeno funziona in modo degradato ma continua a funzionare, non si blocca del tutto. Se si spacca l'hard disk su cui ci sono tutti i dati non deve essere un problema. Un sistema formativo su cui un guasto di un componente rende il sistema non disponibile è una schifezza. Non è questione di se si rompe, faccio esempio dell'hard disk perché sono i componenti che si rompono con maggior frequenza, non è questione di se si rompe, è questione di quando si rompe, di sicuro. Sono componenti che hanno una vita utile magari di cinque anni, il tempo medio tra i guasti di cinque anni, quella è una distribuzione statistica, magari tra due anni si rompe, magari va avanti otto anni, però prima o poi ti lascia, si ferma e quando un hard disk si rompe si porta dietro tutti i dati che c'erano sopra, in quell'istante e tu devi avere un sistema che abbia un livello ad esempio di ridondanza tale per cui continui a lavorare tranquillamente perché i dati sono replicati da un'altra parte, il sistema informativo se ne accorge e continua a funzionare magari a una velocità ridotta perché magari allo stesso disco adesso accedono due server diversi che uno solo, insomma soluzioni tecnologiche ce ne sono per tutto. È chiaro che sono livelli di complessità maggiore nella progettazione, non è appunto il sito amatoriale o sistema amatoriale che se si rompe la pazienza non funziona. No, se si rompe qualche cosa deve continuare a funzionare. Questo nel grande e nel piccolo. Ma anche le soluzioni ci sono, io quello che dico sempre quando parlo di questo argomento, poi immaginate che suoi arrivare da casa e accendere il computer che aveva da casa e non si accende. Non si accende più, si è rotto, si è fulvio, è arrivato un fulmine, è arrivato l'hard disk che è rotto, lo aprite e togliete fuori l'hard disk e è fumato. Allora, cosa ci avete perso? In teoria non dovreste rispondere a niente, ci ho perso il valore fisico del servo del computer, 4, 5, 800 euro del computer. Invece probabilmente qualcuno che ha il biancato ci ha perso la tesi, ci ha perso il lavoro, ci ha perso tutti i contatti, ci ha perso tutte le foto, eccetera, eccetera. Allora, se è accettabile a livello personale e amatoriale avere una criticità dovuta al fatto che un guasto di un componente ti fa perdere informazioni, ti fa perdere servizi, non è accettabile sicuramente in modo aziendale. Secondo me non è accettabile neanche a livello personale, con tutte le soluzioni che ci sono al giorno d'oggi. È chiaro che il danno materiale c'è, devi ricomprare il pezzo che si è rotto, ma non deve esserci un danno a livello di servizio o a livello, peggio ancora, di dati. Non si deve mai arrivare a perdere i dati. È una parolina, ma sta parolina è capace di moltiplicarti per 10 il costo del sistema, a seconda del livello di affidabilità che vuoi ottenere. Perché l'affidabilità si combatte con la ridondanza, ovviamente. Avere più pezzi di quelli che servono in modo che quando se ne rompe qualcuno gli altri possano subentrare. Portabilità è la possibilità di migrare il sistema da un sistema a un altro, da una macchina a un'altra, che quel sistema non sia bloccato a girare solo su quel computer per tutta la sua vita, ma possa girare magari anche su altri sistemi operativi, su altri tipi di soluzioni video, grafiche, eccetera. Questo non ha nulla a che fare, è tutto traversale rispetto alle funzionalità, lo capiamo. Sono proprietà traversali che se si applicano a ognuna di queste Y qua, mi complica di un livello la progettazione del sistema. Messe tutte insieme mi complicano di tanti livelli. I requisiti tipo organizzativo sono quelli un pochino più, quali standard adottare, quali linguaggi, librerie, ambienti implementare, perché il nostro data center ha i server di quel tipo lì, deve girare lì, non è che vado a costruire un data center diverso solo per questa applicazione nuova. Quindi devo vivere dentro quei vincoli lì, dentro quei tipi di sistemi. E più, vabbè, gli requisiti esterni sono quelli che abbiamo già citato, etici, legislativi, eccetera. E più quelli, qui sono aggiunti di interoperabilità, perché l'esterno può essere la normativa, ma l'esterno può essere anche le altre aziende. E quindi io voglio che il mio sistema comunichi con le altre aziende, allora deve essere interoperabile, nel senso che deve poter scambiare dati, informazioni o processi con certi standard che siano accettati anche dalle altre aziende, o che siano a volte imposti da altre aziende. volete usare nella vostra applicazione le mappe di Google? Benissimo, però dovete essere compatibili con ciò che Google ha deciso in termini di interfaccia per accedere, visualizzare le loro mappe, calcolare distanze, eccetera, eccetera. Queste cose, adesso qui sorvoliamo, andiamo abbastanza rapidamente, sono anche normate, nel senso che c'è uno standard dell'ISO, quello famoso, la sigla 9126, che è un documentino che non è neanche troppo pesante, sono una decina di pagine essenzialmente, che è stato più recentemente rivisto, perdon, ho perso, che è stato più recentemente rivisto da una norma che si chiama 25.030, che si chiama Software Engineering, trattino Software Product Quality Requirements and Evaluation, cioè i requisiti di qualità e di valutazione, scritto qua sotto, abbreviato come Square, per i prodotti di tipo software. Allora, questi documenti qui, chiaro che non ti dicono come fare il sistema, ma ti dicono quali sono le variabili di cui tener conto. E quindi danno anche una definizione di quelle che possono essere le prestazioni, i requisiti qualitativi, eccetera, e in alcuni casi danno anche dei metodi per verificare, perché ricordiamoci che i requisiti, anche quelli non funzionari, o sono verificabili o non esistono. Quindi questa norma parla sia della, quello che chiamano qualità in uso, cioè delle proprietà che ha il sistema quando viene usato dagli utenti, quindi nell'interazione con l'utente, rispetto alle funzionalità intrinseche del sistema. Queste qui a destra sono più, diciamo, oggettive, quelle a sinistra invece sono più, non soggettive, ma legati comunque all'utilizzo da parte di una persona. Adesso poi non entriamo nel dettaglio di questo standard, solo per citare che poi chi ci lavora in questi campi non deve per fortuna reinventarsi tutto da zero, ma un quadro di riferimento esistente. Addirittura questa norma entra al livello di dettaglio di dire, guarda, questa proprietà qualitativa del sistema, questa requisita non funzionale, cioè evitare i blocchi del sistema, quando il sistema non è più funzionante, ti lo definisce, ti dice, beh, come faccio se voglio evitare che il sistema si blocchi nel caso in cui avvengano dei guasti critici? E qui ti dà soprattutto la definizione di che cos'è la frequenza di breakdown e qual è il metodo per calcolarlo, è un indicatore, questa X, che ti dice che qual è il rapporto, che è legato dal numero di blocchi del sistema e il numero di guasti che avvengono. Idealmente si possono guastare tante cose, ma il sistema non si blocca mai. E quindi ti codifica una variabile complessa tra 0 e 1 che più è alta, più ti indica che il sistema è resistente rispetto a guasti, critical failure, e quindi non va mai in breakdown. Allora, questo ci permette di avere anche poi un metodo di calcolo, dice, beh, osserviamo il sistema per la durata dei 5 anni, lo possiamo anche mettere nel contratto. Nel contratto è così detto SLA, service level agreement, cioè un accordo sul livello di servizio. Tu mi fornisci un servizio, questo servizio non potrai mai dire che è disponibile al 100%, per una catastrofe che fai, no? Potrà disponibile con un certo slas, si dice in gergo, no? Con un certo service level agreement. E questo service level agreement ha parlato di variabili di questo genere. su un periodo di riservazione di 3 anni, il calcolo di questa X non deve superare, non deve essere inferiore al 0.9, o quello che sia. Io in fase di progettazione cerco di premonirmi. Quindi queste cose, per evitare appunto anche poi ambiguità o contese, sono descritte in questo tipo di normative. Qui la stessa cosa, quanto sono coprenti, quanto sono esaustivi i test che tu fai sul sistema. E quindi dà una metrica, una misura, per poter valutare la qualità del piano di test, cose di questo genere, no? Che poi possiamo, a nostra scelta, conoscendo queste norme, no? A nostra scelta possiamo decidere di richiamarle all'interno dei documenti di requisiti. Anziché inventarci le cose da 0, richiamiamoli, è più facile per tutti, insomma. E queste sono appunto le macro-categorie di requisiti non funzionali che bisogna considerare. Ecco, di tutta questa norma, effettivamente quello che possiamo portarci a casa, non dico ricordarci la memoria, ma sapere che ci sono, sono queste categorie qua. Sono domande da farci. Come vogliamo che il sistema si comporti? Beh, dal punto di vista funzionalità ci sono tutti i requisiti funzionali, ma dal punto di vista dell'affidabilità come deve comportarsi quando qualcosa non funziona? Dal punto di vista dell'usabilità, quindi l'interazione con l'utente, dal punto di vista dell'efficienza, i tempi di risposta, le risorse di calcolo necessarie, la manutenibilità, cioè come fare a far evolvere il sistema. Non è che pensare, il sistema adesso per cambiare una versione a quella nuova deve star fermo per tre giorni, ma sei pazzo, no? E cose di questo genere. Vabbè, su questo un pochino sorvolerei. L'unica cosa, ecco, che di nuovo ho richiamato in queste norme, la differenza, qui cambia chiaramente la terminologia, ma il concetto è lo stesso, tra obiettivi e requisiti. Noi abbiamo parlato finora di requisiti che avevano la proprietà principale, dicevamo, di essere verificabili. La norma permette di definire anche degli obiettivi, un obiettivo generale. Io voglio che il sistema sia robusto, sia il più robusto possibile, sia il più friendly possibile. Questo non è un requisito, è un obiettivo, è dove voglio arrivare, è la direzione in cui voglio andare, in cui voglio spingere. Il requisito, invece, mi dovrà dire con precisione fin dove devo arrivare, quanti metri devo andare in là, no? Un esempio di differenza tra i due è un obiettivo potrebbe essere, il sistema dovrebbe essere facile da usare da parte di controllori con esperienza e dovrebbe essere organizzato in modo che gli errori degli utenti siano minimizzati. Che è buono, no? È bello se il sistema è in grado di far questo. Semplicemente questa espressione non è verificabile. Cosa vuol dire? Minimizzare gli errori. Non c'è scritto annullarli, perché è impossibile, gli errori, diciamo così, umani. I controllori con esperienza. Questa frase è strata da un esempio che parlava di un software, di una torre di controllo di un aeroporto, quindi controllore e controllore di volo, con esperienza. Quanta esperienza. Allora, quello sotto, invece, è già più preciso ed è verificabile. I controllori con esperienza devono essere in grado di usare tutte le funzioni del sistema. Quindi questo c'è scritto tutte le funzioni del sistema, sopra non c'era scritto. Diceva, ah, il sistema devi saperlo usare. Sì, devi sapere usare un pezzo, le cose più frequenti. No, qui c'è scritto tutte, siamo stati più precisi, dopo un totale di due ore di addestramento. Quindi io prendo una persona, faccio un corso di due ore e poi posso verificare che dopo due ore di corso sia in grado o meno di usare tutte le funzioni del sistema. E faccio un test. È verificabile. Poi, ovviamente, questo test, essendoci di mezzo una persona, avrà una distribuzione che c'è quello più sveglio, c'è quello un po' meno sveglio, però, quindi, probabilmente, poi la misura sarà almeno il 90% di controlorico dopo due ore di corso che non avessero bevuto la sera prima, no? Sono in grado di usare il sistema. Viceversa, la seconda metà sulla minimizzazione del numero di errori, dopo questa esperienza, il numero medio di errori fatto dagli utenti con esperienza, quelli di prima, non deve superare, ad esempio, due errori al giorno. Cioè, metto un valore, metto un numero. Questo sforzo di quantificazione è chiaramente pesante, no? È due o tre. Suggiamo la tentazione di dire zero o cento per cento, perché non sarà mai raggiungibile, quindi se lo scrivessi scriverai il falso. Non posso garantire queste cose mai. sono metriche che sono normalmente facili da verificare, cioè, alla fine hai rotto quell'indicatore fuori range. Sono molto più difficili da garantire. Cioè, non è che è un pezzo di codice che mi garantisce che l'utente non faccia il terzo errore, se ne hai già fatti due oggi. Devo fare in modo che il sistema, né il suo complesso, l'abbia progettato in modo tale per cui sia molto difficile sbagliare. È molto difficile. È impossibile a livello di progetto garantire che i requisiti qualitativi siano rispettati. Sì, quelle sulle prestazioni magari sì, sono i più facili. Deve essere più veloci a dire. Posso cronometrare, misurare, fare le prove. Quelli invece che coinvolgono già anche il comportamento degli utenti, oppure l'affidabilità, nel caso dei guasti, sono più ragionamenti di tipo probabilistico, statistico. Cioè, so che si rompe un hard disk, spero che non si rompano tre allo stesso giorno. Se ne rompono due, vabbè, ne ho uno o due di scorta nel cassetto, devo averli, di scorta nel cassetto, devo avere una procedura per ricostruire i dati nel momento in cui. Oppure se ho già uno, già pronto, già con i dati copiati, perché ne tengo sempre una. Come ho detto hot backup, un backup caldo, c'è una macchina in più lì ferma che non fa niente, ma se si rompe qualcosa è pronto a subentrare. Tecniche sono tante, no? Come sempre. E poi probabilisticamente, spero che non succeda la catastrofe che si rompano tutte e tre, per dire. Se succede, è una probabilità molto bassa e spero che questa probabilità sia inferiore al tasso di ore di termomacchina che sono permesse dall'SLA che ho stipulato. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi di metriche per misurare le varie proprietà dei requisiti non funzionali. Ok, io andrei avanti, perché vorrei cominciare, saltiamo un po' questa parte qua nei requisiti non funzionali. E ci avviciniamo invece agli strumenti pratici con cui, cominciamo a parlare di strumenti pratici con cui rappresentare questi requisiti, perché finora abbiamo detto le qualità che devono avere i requisiti e la natura delle informazioni che ci saranno lì dentro. Adesso cominciamo un po' a parlare di come sono fatti, di come li scriviamo, di come li realizziamo. Ok? Allora, a livello utente, dicevamo, se i requisiti dei requisiti del sistema, a livello utente devono essere questi requisiti comprensibili anche, non solo, anche da chi non possiede conoscenze tecniche specifiche. E quindi il modo principale per esprimere i requisiti funzionali non funzionali a livello utente è quello del linguaggio naturale. Testo, scritto, aiutato possibilmente da tabelle, diagrammi, schemini, eccetera, perché questi di solito riescono ad aggiungere un livello di precisione, di chiarezza in più rispetto a lunghe vomitate e di testo. Il linguaggio naturale, usato come strumento di descrizione, ha moltissimi problemi. Usato per scrivere poesia, per scrivere prosa, va benissimo. Ma usato per permettere informazioni che devono essere, ricordiamoci, complete, corrette, non ambigue, eccetera, eccetera, è proprio l'opposto. Anche se stiamo parlando ancora dei requisiti a livello utente, ma questo non ci esime dall'essere non ambigui. Dobbiamo comunque essere non ambigui, precisi. È difficile mantenere un testo scritto preciso senza renderlo illegibile o molto pesante da leggere. C'è una prosa facile da leggere, tende ad essere una prosa che semplifica, che perifrasa, che usa sinonimi, modi di dire, sottintesi, eccetera, allora alleggerisce il testo. Se invece il testo è preciso, pignolo, no? Avrete anche voi un amico pignolo, no? Se tutte le volte che dice una cosa dici, va bene, abbiamo capito, però tu devi proprio mettere puntini sulle i sopra e sotto anche, eppure è così. La chiarezza e la precisione sono due cose opposte. Bisogna trovare, ovviamente, un giusto compromesso. Nella descrizione testuale è facile che si trovino a mescolarsi i requisiti funzionali e i requisiti non funzionali. Questo non è gravissimo, nel senso che poi dopo, nella parte dei requisiti di sistema, li andremo a separare. Però tante volte, per esempio, il tempo di risposta con le funzionalità dell'interfaccia ti viene da scrivere nella stessa frase, no? Quando l'utente attiva la funzione di ricerca, rapidamente il sistema mostra la risultata. Lì è mescolato cosa fa il sistema con qual è il vincolo sul tempo nel quale lo esegue. Poi c'è messo dentro rapidamente, che è un avverbio che non vuol dire niente, no? Perché dipende sempre da chi lo legge, se non c'è poi una quantificazione da qualche altra parte. E spesso in una frase ci sono impliciti più requisiti diversi, mescolati tra di loro. Questo è una caratteristica normale, cioè il linguaggio naturale è ambiguo. Puoi dire la stessa cosa in più modi diversi, allora poi voglio vederti a verificare la non ridondanza dei requisiti. E sono dei problemi che per sé sono insormontabili, nel senso che, a meno di non essere troppo precisi i pedanti, allora perdi la chiarezza e incappi in questi problemi. Bisogna essere coscienti, bisogna cercare di minimizzarli e trovare così un buon compromesso, no? Così come, e questa è una cosa che è particolarmente sentita, è un testo fluisce. Un insieme di requisiti tipicamente è una serie di elenchi, probabilmente elenchi annidati, per cui ad ogni requisito poi ci sono una serie di sottorequisiti e c'è uno di questi che ci sono dei sottorequisiti, che hanno una certa struttura gerarchica, il linguaggio invece è lineare. Allora avere la precisione, la tracciabilità che questo è collegato a quest'altro requisito, in un testo lineare diventa molto complicato. Le strutture grammaticali sono troppo povere. Non possiamo in nessuna lingua scrivere una frase lunga 25 righe con una subordinata e la subordinata e la subordinata. No, bisogna spezzettare e andare in modo più lineare piuttosto che non gerarchico. È stato un modo diverso di descrivere le cose. Qui c'è un esempio di testo naturale, sempre per l'ipotetico sistema bibliotecario, che descrive un requisito a livello utente. L'ipsis fornirà, l'espressione è spesso di questo tipo, o il sistema farà, prescrive una cosa che deve fare col sistema, oppure descrive una cosa che gli utenti possono fare. La maggior parte delle frasi a livello di requisiti sono scritte in questi due modi. Il sistema farà, il che vuol dire che quando qualcuno glielo chiede, il sistema lo fa e lo deve fare, oppure l'utente, e qui classifica quale categoria di utente, può fare una certa cosa. Ma se l'utente può fare, il sistema ovviamente deve obbedire. Sono i due modi di esprimere le frasi. Grammaticalmente sono equivalenti. Stiamo dicendo la stessa cosa. Stiamo dicendo che quando l'utente chiede una cosa, il sistema non lo deve fare. Non possiamo mai scrivere l'utente deve, mai, perché l'utente se ha voglia di andare a prendersi un caffè, va, quindi non puoi dire l'utente deve, così come non ha senso di dire il sistema può. Può in funzione di che cosa? Se ha voglia o se non ha voglia. Se l'utente chiede, se una funzione c'è, c'è, e deve essere disponibile. Se c'è un può, non è mai perché il sistema è andato a prendersi un caffè, ma perché c'è un motivo per cui quella funzione in quel contesto non è attivabile. Ma allora non è un può, è una precondizione. Quindi grammaticalmente abbiamo queste due forme. Il sistema fornirà un sistema di contabilizzazione finanziaria che mantiene le tracce di tutti i pagamenti fatti dagli utenti del sistema. I system manager possono configurare il sistema in modo che gli utenti frequenti possono avere dei tassi, dei prezzi scontati. I system manager may, questo may, ricordiamoci che si applica all'utente e non si applica al sistema. Quindi è una funzione che ci deve essere e che gli utenti possono usare se lo vogliono. E questa funzione ha questo impatto. Tra l'altro qui stiamo cominciando ad evidenziare che ci sono utenti di tipi diversi. I system manager possono fare certe cose, i regular users possono fare cose diverse. Finora negli esempi che abbiamo fatto anche in laboratorio tipicamente l'utente era uno solo. Mentre invece quando pensiamo a un sistema complesso abbiamo diverse tipologie di utenti. Poi più avanti formalizzeremo questo concetto parlando di ruoli di accesso al sistema. Questo è un altro modo, Editor Grid, c'è un requisito utente su un software che ti permetta di disegnare, fare dei disegni, posizionare degli elementi su una griglia. Immagina fare un diagramma di flusso o qualcosa di questo genere. Quindi per assistere, per aiutare nel posizionamento dell'elemento gli utenti possono attivare una griglia espressa o in centimetri o in pollici attraverso un'opzione sul pannello di controllo. Questo pezzo qua attraverso un'opzione sul pannello di controllo a me piace relativamente poco perché comincia già a esserci qualche cosa di progettuale, non è più un requisito, si dice già come. E in ogni caso ci sono, come dicevamo prima, cose mescolate in questa frase. C'è un requisito che dice nel pannello di controllo deve esserci l'opzione per attivare la griglia. Poi c'è l'altro requisito che dice la griglia può essere espressa in centimetri o in pollici. Poi c'è l'altro requisito che dice l'utente può attivare o meno la griglia. Poi c'è quella frase, to assist the position of entities, che non è un requisito ma non è una descrizione di che cosa serve la griglia. La griglia serve per aiutare l'utente a posizionare gli elementi, ma di per sé non è verificabile. È una definizione di che cosa è una griglia. Quella frase lì ce la vedrei più a livello di glossario, di spiegazione dei termini. Poi dopo avrò bisogno di spiegare come fa la griglia a aiutare il posizionamento. Per cui da qualche parte ci sarà scritto che quando l'utente esporta un elemento, questo elemento si agganza automaticamente ai vertici della griglia. Allora lì spiego che cosa fa la griglia. Ma dire che questo è uno scopo. Prima l'abbiamo chiamato un goal. Perché l'utente possa essere più contento? Di per sé non è requisito se non ti dico che cosa fa il sistema per rendere l'utente più contento. Nei requisiti a livello dell'utente questi costrutti ci sono. Ci sono perché deve essere leggibile. Inizialmente la griglia è spenta. La griglia può essere accesa o spenta in qualunque momento durante una sessione di editing. E in qualunque momento si può modificare tra pollici e centimetri. Lo requisito abbastanza cretino perché se ho già posizionato degli elementi sui centimetri poi cambio in pollici. Questi qui non sono più allineati. Ma vabbè è così. non ho scritto. Ci sarà un'opzione della griglia. On the reduced to fit view by the number of grid lines. Nel momento in cui tu riduci per far star tutto riduci lo zoom il numero di linee di questa griglia potrebbero non essere visualizzate tutte. Essenzialmente dice questo. quest'ultima frase per evitare che quando è più troppo il diagramma sia tutto pieno di linee e non si capisca più niente. E questo forse è un dettaglio di visualizzazione. Queste descrizioni qua sono l'unico vantaggio che sono facilmente comprensibili da chiunque. Dal punto di vista formale però mancano di molte delle qualità che abbiamo descritto prima. Però da lì dobbiamo poi escire a derivare i nostri requisiti a livello di sistema. Qui sono elencati alcuni dei problemi. Vediamo se li abbiamo trovati tutti leggendo. La parte sull'Ipsys dice che il requisito descrive il concetto del sistema di accounting che deve essere includo. Questo è l'oggetto del requisito. Ti dice come fare la contabilizzazione finanziaria però a questo livello in cui dici che c'è un sistema finanziario entra in un dettaglio uno non tutti. Un dettaglio specifico che dice i manager possono fare questa configurazione qui. Ma i manager potranno fare altre 12.000 cose. Perché lì hai richiamato quella? Perché veniva naturale nel discorso. Però in quel punto lì sembra quasi che sia l'unica funzione. Non lo è. Perché quel dettaglio lì è più importante di altri? No, forse andava ripreso dopo. Così come la parte sulla griglia mescola un requisito funzionale cioè c'è una griglia un requisito non funzionale cioè in quale unità di misura sono espresse le griglie e un requisito che invece pertiene all'interfaccia utente WIST per user interface e non alla funzionalità quindi un requisito di tipo grafico che è stato messo nella stessa frase insieme ai requisiti funzionali. Facendo attenzione si può cercare di scrivere le stesse cose senza perdere troppa chiarezza e avendo un pochino più di precisione. Quindi questo è un esempio di lo stesso requisito di prima riorganizzato quindi innanzitutto gli diamo un numero tracciabilità un titolo un titolo breve così facile da riferirsi a quell'elemento una descrizione importante e una spiegazione quindi l'editor fornirà una funzionalità di griglia dove ci saranno una matrice di linee orizzontali e verticali disegnati sullo sfondo. Questa griglia dovrebbe essere una griglia di tipo passivo cioè lei non ha elementi attivi dove nei casi in cui l'allineamento dell'identità sia la responsabilità dell'utente quindi l'utente sposta gli elementi e la griglia lo aiuta ma lei da sola non fa nulla quindi non è il fatto che metto la griglia che sposta gli elementi rationale spiegazione perché c'è questo requisito allora questa è una parte di motivazione la posso posso allargarmi cioè queste tre righe sono righe molto secche molto asciutte ti danno il requisito e sotto ti dico beh non te lo nascondo ma ti do la spiegazione allora lì posso essere un pochino anche più informale una griglia aiuta l'utente a creare un diagramma più compatto con delle entità ben spaziate capite che questo ben spaziate non ci starebbe in un requisito perché cosa vuol dire ben spaziato ci sta a livello intuitivo infatti qua è stato rimesso in una sezione che hanno chiamato rationale cioè spiegazione motivazione ragionamento che sta dietro in italiano non c'è una parola unica per tradurre rationale anche se ci potrebbero essere delle griglie attive dove gli elementi si agganciano come fosse magneticamente alle griglie potrebbe essere una soluzione utile e la posizionamento in questo caso è troppo impreciso allora lasciamo che sia l'utente a decidere dove posizionare l'entità quindi quella griglia diventa solamente un riferimento ma poi è l'utente che la può lasciare in qualunque punto è una griglia di riferimento e non di chi ci spiega perché specification e source quindi chi l'ha scritto sempre fondamentale perché se poi non capisco qualche cosa devo andare tra di nuovo tracciabilità a chiedere a chi l'ha scritto ma qui cosa intendevi in questo punto oppure noi in realtà avremmo scoperto che c'è un requisito contrastante che ci chiederebbe magari di fare una griglia attiva quindi come possiamo fare discutiamo su questo punto e perdon e poi riferimento di dove si trova questa specifica in questo caso in quel documento tal dei tali quindi cerchiamo di contemperare la precisione con la motivazione dando una struttura uno schema ci sono poi in giro si possono trovare alcuni specificati altri sono prassi aziendali dei template dei modelli a cui agganciarsi per cercare di costruire queste spiegazioni ecco questi modelli alla fine prendono forma di quello che per semplicità possiamo chiamare il documento dei requisiti dico per semplicità perché spesso non è mai un documento nel senso di un file world ma una serie di documenti file di testo diagrammi eccetera eccetera legati perché spesso è qualche cosa di corposo però diciamo così concettualmente costituisce l'insieme dei requisiti quindi quello che chiamiamo il documento dei requisiti è la descrizione ufficiale di ciò che viene richiesto agli sviluppatori che contiene sia i requisiti a livello utente tipicamente nella parte iniziale più breve sia i requisiti a livello del sistema nella coda molto lunga del documento la cosa più importante sul documento dei requisiti è l'ultimo appunto di questa slide non è un documento di progetto quindi non dice come il sistema dovrà lavorare dice cosa il sistema dovrà fare ok facciamo specifica non facciamo ancora progettazione la progettazione viene dopo e i progettisti devono essere liberi di fare le scelte che vogliono nel rispetto ovviamente dei vincoli non funzionali che limitano la libertà quindi cercare sempre nell'interesse del progetto stesso di separare il cosa dal come perché il cosa è la funzionalità di cui l'utente ha bisogno che può essere usato in tanti modi diversi oggi il modo migliore è uno dopodomani il modo migliore potrà essere un altro però il requisito è sempre lo stesso perché se vado a soddisfare la stessa necessità dell'utente e quindi il documento requisiti cerchiamo di mantenerlo diciamo quindi più possibile è statico perlomeno curarlo indipendentemente da quelle che possono essere le tecnologie del momento cambia l'interfaccia va bene è un modo diverso di realizzare lo stesso requisito ma tutto lo sforzo che ho fatto per definire i test le validazioni le accordi sulla completezza sulla coerenza dei requisiti rimangono indipendentemente da quello che è il colore dello sfondo dell'interfaccia che abbiamo deciso di cambiare ad esempio e qui ci fa vedere uno schema che riassume chi sono gli utenti del documento dei requisiti è un po' quello che già dicevamo all'inizio sul concetto di requisito in generale il documento del principio dei requisiti viene letto a livelli diversi da persone diverse con scopi diversi se il cliente leggi i documenti dei requisiti per controllare che soddisfi i loro bisogni ed eventualmente dicono no questo non va bene modifichiamolo i gestori i manager hanno bisogno di capire in un mondo ideale hanno bisogno di capire di che cosa tratta il sistema per fare il prezzo come minimo per capire quanto costa per fare una stima dei costi la bid le offerte di acquisto o di vendita e pianificare lo sviluppo del processo quindi quanto tempo ci vuole quante risorse creare il gruppo di lavoro eccetera e poi c'è tutta la parte di sviluppo chi fa lo sviluppo chi fa i test che ciascuno deve leggere a volte sono le stesse persone a volte sono gruppi diversi dipende dalla metodologia di sviluppo software che adotta azienda uno un gruppo diciamo così gli sviluppatori devono sapere cosa devono sviluppare e i test devono sapere quali verifiche pianificare e poi disegnati per ultimi ma sono quelli che hanno il lavoro peggiore chi si occupa di mantenere il sistema in vita quindi una volta che il sistema è finito prenderlo in carico verificare che funzioni e correggere eventuali malfunzionamenti problemi malfunzionamenti diciamo così legati all'arber oppure legati a bacchi software riuscire a segnalarli identificarli eccetera eccetera quindi questi signori devono capire questo sistema dal punto di vista hardware che requisiti ha dal punto di vista software come si gestisce come si fanno le modifiche eccetera sono quelli che prendono in carico il sistema dopo che è finito ma è sempre dal documento dei requisiti e soprattutto dalla parte dei requisiti non funzionali che capiscono quale sarà l'entità dei loro interventi in seguito allora anche su questa parte qui su quello che chiamiamo documento dei requisiti noi ci rifacciamo in modo abbastanza superficiale a un altro documento standard quelli di prima sono standard ISO quindi non sono facilmente trovabili disponibili su internet perché l'ISO vive vendendo i propri standard si trovano ma non ufficialmente mentre invece questa è una standard dell'A3E se siete la Politecnico lo potete scaricare tranquillamente dalla digital library dell'A3E perché poi Tecnico ha l'abbonamento a tutte le pubblicazioni tra Politecnico questa cosa qui IEEE sta per Institute of Electric and Electronic Engineers è un'associazione professionale di ingegneria elettrica ed elettronica direi anche informatica perché quando è stata fondata l'informatica non esisteva ancora a cui fa riferimento anche molti standard gestisce la maggior parte le pubblicazioni scientifiche nel settore informatico insieme all'ACM e anche delle attività di standardizzazione se Politecnico è abbonato a tutto diciamo così tutte le pubblicazioni di questo ente per cui questo standard si chiama IEEE recommended practice quindi pratica buone prassi pratica raccomandate for software requirement specifications per la specifica dei requisiti software si dice fai come vuoi io standard alla fine sono risultati di lavori di persone siamo così esperti nel settore ti suggerisco ti raccomando di usare questo schema quando vuoi fare la specifica dei requisiti e questo sarà semplificandolo un po' anche il modello a cui ci ispireremo noi nel pensare come sempre cerchiamo di non inventare cerchiamo di prendere il meglio soprattutto poi quando è noto e quando ci conviene cerchiamo di prendere il meglio da questo documento che parte definendo l'indice e poi entra il dettaglio perché questo qui dice secondo questa specifica il documento dei requisiti deve avere queste cinque sezioni e poi entra nel dettaglio sezione per sezione che cosa metterci e come strutturarla con una serie di esempi esempi e dettaglio che affronteremo giovedì prossimo ma se volete scaricarvelo e cominciarlo a guardare non è un segreto attacca attacca un commento e quindi a